Io mi auguro che il loro punto di vista possa mutare nelle prossime ore perché c'è una grande esigenza nazionale. I cittadini hanno dato fiducia al PD, hanno dato fiducia a tutto il Partito Democratico e io penso che oggi sia responsabilità di tutti provare insieme a realizzare questo obiettivo di fondo delle riforme. Poi è giusto discutere, è giusto confrontarsi, però c'è un momento in cui si decide, per cui io penso che questo momento sia arrivato per noi.